Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un video dove vi faccio vedere come salvare questi completi Il completo per esempio che porto io, il completo tipo parametrico O comunque tutti i completi che sono presenti in questa diciamo fascia di missioni Allora innanzitutto dovete avere la base operativa o un amico che vi dà una mano Magari ce l'ha lui e avvia lui queste missioni Allora una volta che avete avviato queste missioni O il vostro amico avrà avviato queste missioni Andremo a vedere che cosa dobbiamo fare Quindi a questo punto ragazzi Aspettiamo che entri il secondo partecipante Avviamo la missione Allora ragazzi nella missione ovviamente ci dirà di fare qualcosa Ma noi ovviamente faremo tutto quanto l'opposto Allora innanzitutto qui avete tutta una serie di completi Da selezionare poi a seconda delle missioni Ci sono i vari completi In questa missione ci sono solamente i completi da parametrico E questo completo qui ragazzi Allora per Invece per le altre missioni Magari ci trovate i jogger grigi Insomma ci sono varie missioni con vari completi Come nella modalità competizione ovviamente no? Anche lì ci sono varie missioni In varie modalità con vari completi diversi E qui la stessa cosa ragazzi Quindi come vedete abbiamo diversi completi Potete unirvi o a una o all'altra squadra E quindi passiamo al glitch Come vedete Alexia qui sta Ha preso il completo verde da parametrico Io invece Ho preso l'altro completo Perché comunque quello da parametrico azzurro Già ce l'avevo E quindi ho preso l'altro completo Ma non lo terrò ovviamente È solo per farvi vedere Come si salva questo completo Quindi dopodiché Uscite dalla base operativa Prendete il vostro veicolo L'ambulanza Non so Quello che avete fuori E ve ne andate nel vostro appartamento Ragazzi Dovete andare semplicemente nel vostro appartamento Quando siete arrivati nel vostro appartamento Entrate nell'appartamento Andate nel guardaroba Dove comunque Si cambiano i vestiti E vi basterà semplicemente Cambiare un accessorio Un accessorio qualunque Che può essere Non so Il cappello Una maschera Un paio di guanti Poi dipenderà dal completo Per esempio Nel completo verde Che ha la mia ragazza Non Non gli fa cambiare i guanti Quindi ha dovuto Togliere il cappello Per esempio Però in altri completi Magari vi farà mettere i guanti Vi farà mettere un orologio Non lo so Comunque Un qualcosa Che consenta Il salvataggio del gioco Ragazzi Come adesso andremo a vedere Quindi andremo a mettere qualunque cosa Io qui adesso vado a mettere i guanti Ma comunque Ho già detto che tanto Non salverò questo completo Non lo terrò Perché è un completo comunissimo Che si può fare tranquillamente In un negozio di ammogliamento Una volta che abbiamo fatto ciò Che abbiamo messo i guanti Ragazzi Il passo successivo È sempre Dobbiamo aspettare Il salvataggio Insomma Ci dirà che Il salvataggio è stato effettuato Insomma E a quel punto Potremo tranquillamente Uscire dalla missione Ma in questo caso Ragazzi Non dovremmo uscire Con sospendi applicazione Ma dovremmo uscire Con Con il telefono Quindi andremo ad aprire Il telefono E andremo ad Uscire dalla missione Tranquillamente Come si fa di solito Noi qui stavamo Cercando un po' di Sincronia Per uscire insieme Dalla missione Quindi se lo fate Con un amico E volete tutte e due Completi Cercate di essere Sincronizzati Come vedete Il completo Ci ha salvato E potete Salvarlo tranquillamente Detto questo ragazzi Un saluto a tutti Al prossimo video